Miei carissimi amici di Investire in Borsa a Caccia di Dividendi, come sapete la mia strategia di investimento prevede la creazione di un flusso di dividendi, un flusso di entrate automatiche crescenti nel tempo. Molti di voi però mi dicono, ma Lorenzo è meglio un fondo, un ETF, a distribuzione dei dividendi o ad accumulo dei capitale? Allora, la risposta univoca non esiste. Spesso le case emettenti, le società di gestione del risparmio, distribuiscono e creano fondi e ETF uguali, ma con la classe a distribuzione dei proventi e la classe ad accumulo dei guadagni. Allora, la mia opinione è che se uno parte da zero e comunque inizia con un capitale limitato, l'idea migliore è quella di andare a investire in una classe con il reinvestimento dei proventi, quindi non a distribuzione dei dividendi. Questo per cercare di crearsi un capitale più alto sfruttando l'interesse composto e non pagando subito le tasse. Ma se uno ha già un capitale abbastanza elevato e vuole crearsi una rendita, allora in quel caso potrebbe essere interessante andare a valutare dei prodotti a distribuzione dei proventi, quindi la distribuzione dei dividendi. Allora, questa è la mia opinione, però aspetto i vostri commenti alla fine di questo video. Un caro saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao!